Fisicamente va abbastanza bene, stiamo già programmando i prossimi tamponi per verificare l'evoluzione e se fosse negativa non ci sarebbe più bisogno dell'isolamento. L'imprenditore come sta? Sta andando bene, ha ancora bisogno di ossigeno, ha bisogno ancora di un periodo di ricovero però la fase acuta si è ragionevolmente risolta. Sono sotto controllo i due casi, la giovane 23enne nigeriana e l'imprenditore del Basso Vicentino che sono balzate agli onori delle cronache. L'uslotto Berica fa il punto della situazione sul contagio sul suo territorio. Nei primi tre mesi dalla fine del lockdown, ovvero maggio, giugno e luglio, si contano 32 nuovi casi positivi, 8 quelli che hanno comportato un ricovero tra terapia intensiva, subintensiva e malattie infettive. I piccoli cluster che noi abbiamo avuto, il cluster Serbia o il cluster di altri rientri dall'estero, si sono limitati strettissimamente i contatti molto ravvicinati ai familiari. La circolazione è molto bassa, casi complicati molto pochi e siamo in una situazione di relativa tranquillità. La situazione però testimonia che il virus circola, c'è ancora. Un rischio sentito in particolare da chi viaggia e rientra magari da paesi dove il contagio è ancora elevato o da paesi dove è obbligatoria la quarantena, come Serbia e Moldavia. L'uslotto nel suo sito ha dedicato anche un numero di telefono e una mail, rientro.estero. Riceviamo molte segnalazioni, più o meno un centinaio al giorno in questo momento, il che ci fa ben sperare che il fenomeno non sia sottostimato. Grazie.